Ciao a tutti, sono Mario Manuel e sono qui per ricordarvi che è il capodanno più bello di Sicilia e sono la città dell'Ailante. Anche quest'anno il gran scenone con tanto di animazione e soprattutto con la grande musica che è di terra a compagnia e letterà con il format dell'anno che è la radio senza la radio. I grandi itinerari musicali di ieri e di oggi e di sempre abilmente selezionati e condotti dal sottoscritto. Poi i fuochi d'artificio e a seguire andremo a ballare le hit del momento con i DJ migliori in discoteca aspettando così le prime luci dell'anno. Ma non finisce qui perché ne avesse voglia può anche usufruire del pacchetto completo che prevede oltre al gran cenone alla discoteca il pernotto in hotel ed il pranzo di Capodanno. Quindi non mi resta che dirvi prenotate subito io vi aspetto a Città della Notte e il Capodanno più bello di Sicilia. Ciao!